Wish è in arrivo al cinema Ieri ho espresso un desiderio e la stella ha risposto C'è un traditore in mezzo a noi Io devo fermarlo Wish Signore con le ali non si vola con le voci sì Dal 21 dicembre solo al cinema Acquista il tuo biglietto online e prova a realizzare i tuoi desideri a Disneyland Paris Acquista ora il tuo biglietto Grazie a tutti